Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo lago meraviglioso, vicino proprio al Passo Resi. Guardate che panorama che vi faccio vedere. Unico. Un'altra campanina in l'acqua. 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 Sto passeggiando proprio a un metro dal lago. Un'altra campanina in l'acqua. Un'altra campanina in l'acqua. Un'altra campanina in l'acqua. Un'altra campanina in l'acqua. C'è un po' 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 Avete anche un po' di spiaggia vedete che meraviglia Sono proprio a 20 centimetri, stupendo questo lago, una meraviglia, unica fuoco campanile. Stupendo! 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 Vedi che percorsi in bicicletta qui? Stupendo! Stupendo! Qua abbiamo delle panchine per sedersi e sempre il campanile, vedete che meraviglia! Qui potete scedervi, fare un piquinique! Con la veduta del lago, qui abbiamo una fontana, vedete? Guardate che meraviglia! Grazie! 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 Vedete il punticello che ho fatto, guardate che meraviglia! Grazie! 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 Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Vedete, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. La cosa unica è che siamo vicino al Passo Resia, questo lago meraviglioso. E chiudo quel campanile, tra povello.